Troppi tagli agli enti locali e pochi allo Stato centrale. Tradotto, a pagare per la manovra saranno i cittadini, se come sembra, il documento economico metterà le mani nelle casse di comuni, province e regioni. Non convincono le nuove modifiche del testo e lo dicono chiare e tonde esponenti della maggioranza presenti all'incontro del Lanci e del Lupi con il PD. Il Lanci si rivolge a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione denunciando una situazione drammatica. Questo è un discorso che va al di là degli schieramenti politici. Adesso andiamo a Palazzo Chigi, presenteremo tutta la nostra preoccupazione, tutta la nostra richiesta di modifiche, anche perché i nuovi testi che sono stati presentati sono assolutamente non soddisfacenti, inaccettabili. Da questo punto di vista contiamo di avere ascolto e di avere ascolto anche in sede parlamentare, perché c'è un tavolo sul governo ma c'è anche il Parlamento, perché se non c'è la fiducia c'è la possibilità di costruire in Parlamento anche delle modifiche sostanziali. Questa manovra comunque nel suo giudizio danneggia gli antilocali? Non vi sono dubbi, così come è impostata e bisogna vedere soltanto quanto il governo ci proporrà adesso alle 5 in Consiglio dei Ministri, se rimane questa cifra di 6 miliardi, se è tagliata a 3 come ci aveva annunciato lunedì sera, noi chiediamo addirittura l'azzeramento, se questo non avvenisse certamente danneggia gli antilocali, non ci sono dubbi. E' la terza manovra che grava in maniera significativa sugli antilocali, il DL78, poi la manovra di luglio e oggi la manovra di agosto. Insomma, un coro di proteste bipartisan si leva in direzione di chi ha confezionato una manovra ingiusta, che rende sempre più difficile il lavoro degli amministratori. Ecco il perché di una girandola di incontri che hanno portato sindaci e presidenti di regioni e province a bussare alla porta di opposizione e maggioranza, dopo aver manifestato fianco a fianco contro il governo a Milano. I sindaci in questo paese sono gli unici soggetti che ancora hanno un rapporto diretto con l'elettorato. Sono coloro che sono in grado, attraverso le loro opinioni, attraverso la vita che condividiamo con i nostri concittadini, di orientare in maniera rilevante le opinioni delle persone. Non mancheremo di far pesare questo nostro ruolo politico che, ripeto, è l'ultimo che ha ancora una legittimazione basata sulla faccia delle persone. Un fatto è certo, la manovra va rivista in direzione di una maggiore equità sociale e per questo Bersani ha ribadito la disponibilità del PD. Ma una volta licenziato il testo definitivo, il governo non ha che da prendere una strada, quella che indica l'uscita. Noi stiamo dando una botta micidiale alla condizione dei cittadini, riducendo i servizi o facendo in modo che i servizi costino di più, perché questi tagli si scaricano in maggiore pressione fiscale da parte degli enti locali. E quindi quando Berlusconi dice non metto le mani nelle tasche degli italiani, le fa mettere ad altri per procura. Il governo ha lo sbando e quindi noi diciamo che il Parlamento si prenda le sue responsabilità. Faccia questa manovra alla quale noi dall'opposizione possiamo dare un contributo di proposte, nel senso che dicevo, il giorno dopo, per favore, il governo vada a casa.